La situazione sul fronte covid di Civitavecchia preoccupa. Proprio questa mattina è in corso una videochiamata tra il sindaco Ernesto Tedesco e la ASL Roma 4 per approfondire un andamento mai registrato che ha portato la città a quota mille contagiati. Un numero che presto potrebbe essere superato visto che il picco è ancora lontano. A creare ulteriore apprezzione la riapertura delle scuole. Il servizio. L'enorme aumento dei casi di covid-19 in città preoccupa. I 166 positivi annunciati ieri nel report di salute Lazio, 96 dei quali non vaccinati, porta la nostra città a 986 contagiati contemporaneamente attivi sul territorio comunale, ad un passo da quota mille. Numeri che impressionano ma con i quali bisogna iniziare a convivere visto che, come annunciato dalla direttrice del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4, la dottoressa Simona Ursino, non ci sono cluster particolari a causa dei quali si è arrivati a queste cifre. Ad aumentare i casi sono le caratteristiche di estrema contagiosità della variante Omicron, ha affermato la dottoressa, e purtroppo credo che fino alla fine del mese viaggeremo a queste velocità, in attesa del picco che dovrebbe esserci tra una ventina di giorni. Lo speriamo, anche perché gli ospedali, compreso il nostro, sono in sofferenza. In questa fase, prosegue Ursino, i cittadini devono mettere in campo tutte le azioni necessarie ad evitare la diffusione del virus. Diciamo che chi è coperto dalle tre dosi di vaccini può stare cautamente più tranquillo, anche se le misure di prevenzione vanno mantenute. La dottoressa Ursino entra nel dettaglio dei 25 positivi sintomatici presenti attualmente nel reparto di medicina Covid del San Paolo. L'80% di loro sono non vaccinati e hanno le conseguenze peggiori anche con una variante che appare meno aggressiva per quel che riguarda la sintomatologia. In tutto ciò, a provocare ulteriore preoccupazione è la riapertura delle scuole, dove c'è massima attenzione da parte dei presidi sulle azioni da mettere in campo per evitare i contagi, ma le classi, per loro stessa natura, rappresentano luoghi di aggregazione e visti i numeri attuali di Civitavecchia, che ha di fatto un positivo ogni 50 abitanti, appare impossibile non immaginare gruppi in quarantena e in dad e tamponi di classe. Per adesso la situazione appare ancora tranquilla, ma proprio questa mattina è in corso una riunione in videochiamata tra il sindaco Ernesto Tedesco e i vertici dell'Asa Rova 4. Il Codacons Civitavecchia ha presentato un esposto ai carabinieri per denunciare presunte disparità di trattamento per quanto riguarda il sistema di prenotazione dei vaccini sul sito della Regione Lazio. Prenotando il vaccino, afferano dall'associazione, sembra ci sia la possibilità di scegliere il vaccino Pfizer solo per chi si converte al vaccino, decidendo di farsi somministrare la prima dose, mentre tale possibilità sarebbe preclusa a tutti i riceventi delle terze dosi. Specialmente agli ultraottantenni, con pluri patologie, che pur essendo fin dall'inizio della pandemia considerati come soggetti particolarmente fragili ed avendo ricevuto indenni le prime due dosi di Pfizer, non hanno ancora la possibilità di scegliere la terza dose dello stesso tipo di vaccino che risulterebbe prenotabile solo per i Novavax e sembrerebbe per i bambini. L'ondata di maltempo che continua ad imperversare su Civitavecchia ha impegnato particolarmente i vigili del fuoco della caserma Bonifazi, che hanno girato la città in lungo e in largo per rimettere la insicurezza alle zone colpite dalle forti raffiche di vento. Ieri mattina pompieri sono intervenuti in via Falda 3 a San Liborio per una copertura di un tetto in legno completamente rivelta. La struttura di circa 200 metri quadri si è completamente ripiegata su se stessa e i vigili del fuoco hanno faticato non poco per rimettere in sicurezza all'area. Visto la mole della copertura e delle forti raffiche di vento, si è reso necessario l'aiuto degli specialisti SAF, ovvero lo spelo alpino fluviale, che hanno coadiuvato gli uomini della diciassettesima ad assicurare la copertura in legno. In un momento nel quale, a causa del costo del gas schizzato alle stele, la cosiddetta transizione energetica vive un momento di riflessione, riprende vigore il progetto riguardante la realizzazione di un parco eolico offshore a largo di Civitavecchia. Una importante conferma al riguardo è arrivata ieri nel corso di un interessante convegno promosso dalla CGL che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali delle associazioni datoriali e di tecnici del settore. Ma per saperne di più, vediamo il nostro servizio. L'esempio e il modello, come molti hanno ricordato, di Civitavecchia fa due operazioni importanti. La prima capovolge un paradigma. Il paradigma è quello largamente diffuso, purtroppo che ha ripreso anche corpo e spessore nel dibattito pubblico, legato proprio alle scelte di natura, legato proprio alle scelte della transizione. E in questo paradigma, che purtroppo ancora abbiamo anche ascoltato dalle parole di importanti esponenti istituzionali, che non sia possibile coniugare uno sviluppo diverso con un lavoro e un'occupazione, aggiungo di qualità. Il modello che si è provato a mettere in campo dice altro. Seconda questione, il ruolo del sindacato in questo quadro, perché è indubitabile che, come ricordavo poco fa, il ruolo di cerniera è anche un ruolo negoziale, se volete, di contrattazione per lo sviluppo, come l'abbiamo sempre identificata, per lo meno negli ultimi sette anni. Cioè un ruolo non semplicemente di resistenza o di difesa, ma un ruolo dove si prova anche a costruire le condizioni per nuova occupazione e soprattutto di nuovo per un intervento di natura economica diversa. Perché tenere questi due temi insieme è strategico e vincente. Quindi proseguiamo questo lavoro, individuiamo anche una data in cui ci possa essere non soltanto la rilevanza nazionale che veniva evocata rispetto a un modello e a un progetto, ma soprattutto credo ridare la parola e restituire un quadro in cui lavoro di qualità e non precario e sviluppo sostenibile siano i temi al centro anche della costruzione di prospettive sindacali. Nel 2021 è stato presentato questo progetto a largo di Civitavecchia con 27 turbine per un totale di 270 MW. Un territorio che ospita in Italia una realizzazione del genere è un territorio potenzialmente evocato a fare di questa realizzazione anche un elemento di sviluppo produttivo, quindi non soltanto di utilizzazione dell'energia elettrica prodotta che nasce e finisce nel momento in cui l'impianto viene completato, ma proprio come fatto di comparto industriale che grazie all'esperienza che il territorio può fare nella costruzione di questo tipo di impianti può diventare un tipo di produzione stabile con una proiezione, con una vista temporale che si proietta da qui ad almeno il 2050 se non oltre. Civitavecchia deve diventare il polo energetico del futuro, non del passato. Per questo ha depositato in Consiglio regionale un ordine del giorno per l'attivazione e il consolidamento delle Idrogen Valleys. Lo dichiara David Porrello, consigliere Movimento 5 Stelle Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale. L'idrogeno è una delle risorse del futuro e rivestirà un ruolo sempre più fondamentale, riprende Porrello, con l'ordine del giorno che spero sarà approvato a breve, si vuole consolidare l'Hydrogen Valley, impegnando le risorse regionali previste dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità per la realizzazione di una stazione di produzione e distribuzione di idrogeno verde in loco e l'acquisto di un autobus ad idrogeno da utilizzare sia ad integrazione della linea attivata nell'ambito del progetto Life 3H che su linee Cotral in ambito extraurbano. Lo sviluppo di Idrogen Valleys favorisce la creazione di posti di lavoro qualificati e di percorsi di alta formazione. Inoltre, essere pionieri sulla mobilità ad idrogeno ci permetterà di acquisire un vantaggio competitivo sul mercato. Un piano speciale triennale per risolvere i problemi dell'impiantistica sportiva. Questo è l'ambizioso progetto del Comune che è stato discusso e messo in piedi nel corso di una riunione di giunta. Un intervento caldeggiato dal delegato allo sport Matteo Iacomelli per dare una risposta alle società locali che stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Ascoltiamo il servizio. Potrebbero esserci novità importanti per l'impiantistica sportiva cittadina. Nei giorni scorsi si è svolta una riunione di giunta che ha coinvolto in particolar modo il sindaco Ernesto tedesco, l'assessore ai lavori pubblici Roberto Dottavio, l'assessore al bilancio Emanuela Di Paolo e il delegato allo sport Matteo Iacomelli. L'intento dell'amministrazione comunale è di dare vita ad un piano speciale triennale per rimettere in sesto gli impianti della nostra città che, come sappiamo, non versano certamente in buono stato. Il momento è quello che è, afferma il delegato allo sport Matteo Iacomelli. La stessa cosa si può dire per le associazioni sportive che stanno andando avanti tra mille difficoltà e che non hanno possibilità di far fronte alle spese necessarie per risolvere i problemi delle strutture che gestiscono. Siamo voluti intervenire con forza e lo vogliamo fare con decisioni mirate. Al momento non si sa ancora se i lavori riguarderanno manutenzioni ordinarie o straordinarie, ma la giunta ha manifestato l'intenzione di dare un cambio di passo. Parleremo con la dirigente dei servizi finanziari di prendere Iacomelli per stabilire un capitolo di bilancio. Sappiamo benissimo che anche le casse del comune versano in sofferenza, ma non possiamo lasciare sole le associazioni sportive e i civili da vecchiesi che frequentano gli impianti. Fare i puntati inizialmente sulle piscine, con particolare riferimento al Palagalli e alla vasca comunale di Via Maradona, ma la volontà è di dare un nuovo look anche ad altre strutture di grande spessore, come il Palasporti in Solena da Magnini, lo Stadio Fattori, il Palavercoli, il Moretti della Marta e per la ricostruzione del nuovo Palagammatico a Saliborio. Le piscine sono quelle che hanno maggiore bisogno nell'immediato, conclude Matteo Iacomelli, ma non vogliamo dimenticare nessuno. In tutta Italia le bollette, in particolar modo quelle del gas, sono aumentate e sappiamo bene che l'associazionismo ha bisogno di un affiancamento per poter garantire le proprie attività. Adesso la speranza è che si passi ai fatti, magari anche presto. Molti impianti purtroppo sono nel derrato, ormai da troppo tempo, e bisogna fare in modo di evitare altre chiusure, come quelle che hanno riguardato e stanno riguardando il Palagalli, lo Stadio Fattori e la piscina di Via Maradona. Ne hanno bisogno i cittadini, soprattutto quelli che amano lo sport e in particolar modo le nuove generazioni, che altrimenti non avrebbero spazi nei quali giocare, divertirsi e, perché no, diventare dei campioni. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it www.trcgiornale.it Grazie a tutti.